Ciao a tutti, donne che amano gli stronzi. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Nonché iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, una delle situazioni, diciamo così, che capita comunque abbastanza spesso, soprattutto per le donne, ma ovviamente mutatis mutandis vale anche per gli uomini, è che ci innamoriamo dei cosiddetti stronzi. Chi sono questi stronzi? Sono delle persone che, anziché, diciamo, amplificare il benessere della nostra vita, amplificano il malessere, amplificano i turbamenti, cioè non ci danno quello che vorremmo. Anzi, spesso ci danno esattamente il contrario, ci tartassano, diciamo così, senza lasciare possibilità di vivere bene una relazione. Gli stronzi sono quelli che, diciamo, ti trattano con indifferenza, ti tradiscono, non sono mai disponibili, se ne fottono di quelle che sono le tue esigenze. E sembrerebbe che gli stronzi, diciamo così, attirino. Anzi, ci sono molte donne che se li vanno a cercare proprio. Fanno una sorta di concorso a livello nazionale, selezionano lo stronzo e di quello si innamorano. Del bravo ragazzo sotto casa non sanno cosa farsene, non se ne innamorano. Ora, perché capita questo? E come andare a eliminare questa situazione? Beh, il perché capita è dato dal fatto che se tu non vivi una vita emotivamente appagante di tuo, andrai a cercarti persone che ti fanno vivere queste emozioni. Perché l'equazione deve sempre tornare. E qual è questa equazione che deve sempre tornare? È un'equazione che dice che lo stesso tipo di, diciamo, difficoltà, lo stesso grado di difficoltà che tu hai vissuto nell'infanzia deve riprodursi nella vita da adulto. Se non accade questo, praticamente la parte emotiva va ad aumentare il grado di difficoltà. Ad esempio, facendoti innamorare di una persona stronza. Perché una persona stronza porterà un bel po' di difficoltà nella tua vita, ma soltanto se ne sei innamorata. Perché se non ne sei innamorata, chi se ne frega, cioè non ha più neanche in considerazione. E quindi anche qua devi tenere presente questo. E il bravo ragazzo perché non lo consideri? Perché non agisce sulla tua parte emotiva? Cioè il bravo ragazzo lo sfrutti, lo utilizzi, diciamo così, no? È come la moglie che, per dire, frega i soldi al marito del quale non è più innamorata per regalargli all'amante del quale invece è follemente innamorata. Peccato che quest'amante la sfrutta, la usa e quindi si crea questa sorta di catena, no? In cui lei cerca di utilizzare il marito per favorire l'amante. Perché l'amante però dà forti tensioni emotive. Ti comprime o la rabbia o il pathos. L'amante, diciamo, trasgressivo vero è quello che ti comprime la rabbia e ti lascia libero il pathos. Cioè ti fa vivere l'amore ma nello stesso tempo ti comprime rabbia perché è disponibile pochissimo, ad esempio. E tu hai paura di fare qualunque cosa perché hai paura che lui ti lascia, hai paura che lui ti abbandoni e quindi resti in quella situazione. Quindi per uscire fuori da queste situazioni bisogna diventare noi gli artefici delle nostre emozioni. Dobbiamo diventare noi gli artefici della nostra vita. Dobbiamo diventare noi persone in grado di autosomministrarci emozioni positive e non più andare a mangiarci poppetta veramente dagli altri. Quindi se fin tanto che continuerai, diciamo, a non essere padrone della tua vita, non avere la consapevolezza delle emozioni che ti somministri, continuerai innamorato degli stronzi. E perderai un sacco di treni, un sacco di possibilità. Quindi impara a diventare artefici della tua vita. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.